Quando il paziente non riesce più ad avere una penetrazione, un'attività sessuale tipo penetrativo, abbiamo detto si ricorre ad un intervento chirurgico. Il paziente ci chiede subito che tipo di operazione c'è? Si fa. La risposta è che non esiste l'intervento per la malattia di lapironi, cioè non esiste una sola tecnica che mette a posto tutto il pene e lo riporta allo stato originario. Esistono diversi interventi per le curvature della malattia di lapironi e sostanzialmente ognuno di questi interventi presenta dei vantaggi e degli svantaggi, ragione per la quale dobbiamo concordare con il paziente il tipo di strategia chirurgica da adottare e il tipo di intervento da eseguire mettendo sulla bilancia quali sono i problemi principali legati alla situazione attuale e di conseguenza i conseguenti rischi e benefici che avrà. Dal punto di vista generale gli interventi per il raddrizzamento del pene vengono classificati in corporoplastiche in accorciamento o corporoplastiche in allungamento. Cosa vuol dire? Se noi ipotizziamo il pene curvo noi abbiamo un lato convesso più lungo e un lato concavo più corto. Le corporoplastiche in accorciamento sono quelle che agiscono sul versante convesso del pene. Le corporoplastiche in allungamento sono quelle che agiscono sul lato concavo del pene e come potete immaginare quelle in accorciamento portano in asse il pene accorciando il lato lungo. Le corporoplastiche in allungamento hanno l'obiettivo di allungare il lato corto. La corporoplastica in accorciamento tipica è la cosiddetta plastica secondo Nesbit che il nostro gruppo ha modificato con una variante pubblicata in letteratura e che garantisce sostanzialmente il ripristino dell'asse del pene al 100%. È un tipo di intervento che accorcia come dicevo il lato lungo quindi riporta il pene in asse a prezzo di un accorciamento che può essere calcolato di un centimetro ogni 30 gradi di curvatura. Cioè se io ho un pene curvo di 60 gradi mi aspetto un accorciamento complessivo di due centimetri circa. Che vantaggi ha questa corporoplastica? Che sostanzialmente non dà nessun effetto sulla sensibilità del pene né sulla capacità di erezione del pene. Quindi viene sostanzialmente riservato a pazienti che hanno una lunghezza di partenza adeguata, cioè tale da non subire troppo la perdita di uno o due centimetri di lunghezza. Pazienti che devono avere un'erezione, che hanno un'erezione conservata e che non hanno nessun problema di sensibilità del pene. È un intervento che può essere anche eseguito in anestesia locale, cioè addormentando solo il pene, in regime di day hospital, con una ripresa delle normali attività quotidiane molto rapida nel giro di qualche giorno. Per sei settimane non bisogna avere attività sessuale. Le complicanze sono sostanzialmente legate alla possibilità di ematoma che ci può essere e che in realtà è un finto problema perché l'ematoma viene risolto in tempi molto rapidi, con un po' di ghiaccio sostanzialmente, senza altre grosse precauzioni. Può dare una ipoestesia transitoria, cioè una riduzione della sensibilità per qualche settimana dopo l'intervento, proprio per il trauma chirurgico a cui il pene viene sottoposto. Una probabilità di deficit rettile sostanzialmente prossima allo zero. L'effetto collaterale maggiore, già lo dicevo all'inizio, è l'accorciamento che inevitabilmente viene causato, un accorciamento tanto maggiore quanto maggiore è la curvatura di partenza. Nei pazienti che non sono disposti a utilizzare, a subire un accorciamento del pene, la scelta ricade sulle corporoplastiche in allungamento, cioè la incisione del lato concavo. Questo permette di distendere del pene, quindi di creare un minimo allungamento, più che altro un ripristino della lunghezza iniziale del pene, mediante l'incisione del lato concavo. La distensione del pene provocherà ovviamente una perdita di sostanza legata alla distensione dei tessuti che viene ripristinata con dei tessuti biologicamente compatibili. Per il cardiobovino, collagene sotto mucosa d'intestino di maiale, surrogati emostatici, insomma ci sono una serie di sostanze che possono venire utilizzate, nessuna delle quali è però in grado di sostituire al 100% le caratteristiche biostrutturali della albuginea. Questo è il motivo per cui questo intervento è gravato da complicanze anche gravi. Si calcola che ad un anno da questo intervento la metà dei pazienti che vengono sottoposti a questo intervento possono sviluppare un deficit rettile e possono subire una recidiva dell'incurvamento, cioè una nuova curvatura proprio laddove viene utilizzato il patch sostitutivo della perdita di sostanza. Quindi questo intervento raddrizza il pene molto bene, ma ha un rischio ad un anno circa dall'intervento di essere completamente inutile o perché insorge un deficit rettile o perché viene a causarsi un nuovo incurvamento. Per questi due motivi la cosiddetta chirurgia di placca non la consigliamo in modo così entusiasmante e così entusiasta perché gravato come dicevo da queste grosse complicanze. È chiaro che il paziente che vuole sottoporsi a questo tipo di intervento deve essere un paziente che non ha fattori di rischio per l'impotenza, deve avere una situazione rettile preoperatoria assolutamente normale e per lo più lo riserviamo a pazienti giovani. È chiaro che con i rischi che ho detto prima è importante e fondamentale la riabilitazione postoperatoria che esercitiamo con questi pazienti, cioè dopo l'intervento di chirurgia di placca per ridurre il più possibile i tassi di impotenza e di recidiva dell'incurramento siamo chiamati ad impostare dei protocolli di riabilitazione farmacologica sostanzialmente per favorire l'apporto di sangue, per favorire l'attecchimento del patch che utilizziamo e per ridurre come dicevo le complicanze a distanza. Quindi si utilizzano dei farmaci vasodilatatori, gli stessi che utilizziamo nella gestione dell'impotenza, preferiamo utilizzare farmaci a lunga emivita come il Tadalafil che hanno un'azione 24 ore su 24, quelli presi quotidianamente per favorire un maggior ingresso di sangue all'interno dei corpi cavernosi associato alla ginnastica di stretching con il vacuum device. Il vacuum device è uno strumento che è un cilindro di plastica sostanzialmente all'interno del quale viene inserito il pene con una pompa esterna che fa il vuoto in modo da strecciare, da allungare, da richiamare alla trazione i tessuti sottoposti a intervento, una sorta di ginnastica che viene fatta per evitare che i tessuti subiscano una retrazione. Con questi protocolli di riabilitazione riduciamo il più possibile la probabilità di impotenza e di recidere l'incurramento senza però essere in grado di riportarla a zero. Quindi un intervento che sostanzialmente noi sconsigliamo dal punto di vista chirurgico perché ci sentiamo di esporre il paziente ad un rischio troppo elevato. Laddove il paziente presenti un'impotenza associata all'incurvamento, cioè laddove il paziente non riesca ad ottenere la penetrazione perché il pene non diventa più rigido a causa della malattia di Laperoni, l'indicazione chirurgica è paradossalmente più semplice, nel senso che l'unico modo che noi abbiamo di ripristinare la potenza erettile e la morfologia del pene è l'intervento di impianto protesico. L'impianto protesico è un intervento durante il quale vengono inseriti due cilindri di silicone all'interno dei corpi cavernosi del pene e contestualmente vengono esercitate e realizzate delle manovre per il ripristino dell'asse del pene. Quindi con un unico intervento, più invasivo rispetto agli altri che ho descritto, siamo in grado di risolvere comunque i due problemi insieme sia il problema relativo all'incurvamento che il problema relativo all'impotenza. L'intervento di impianto protesico contestuale al raddrizzamento è un intervento che dura mediamente dalle due alle tre ore a seconda del punto di partenza, diciamo, del paziente, a seconda del modello di protesi che si sceglie. Si possono utilizzare delle protesi gonfiabili o delle protesi non gonfiabili. In entrambi i casi il paziente per sei settimane non deve avere attività sessuale, deve essere sottoposto a visie di controllo seriate poiché chiaramente questo intervento lo espone al rischio fondamentale della chirurgia protesica che è quello dell'infezione. Quindi andranno presi degli antibiotici, fatte medicazioni di un certo tipo per ridurre questo rischio di infezione che imporrebbe la rimozione dell'impianto protesico. Il rischio di infezione di una protesi viene oggi calcolato in circa uno su mille grazie ai protocolli di terapia antibiotica che vengono utilizzati e grazie agli avanzamenti tecnologici che la chirurgia protesica ha al momento disponibili con il rivestimento antibiotico che molte protesi hanno sulla loro superficie che quindi costituisce un'ulteriore barriera nei confronti dei batteri che potenzialmente aggrediscono l'impianto protesico. Le percentuali di soddisfazione della chirurgia protesica associata al raddrizzamento è molto molto alta proprio per il fatto che a fronte di un intervento invasivo noi ripristiniamo la morfologia e la potenza erettile del pene in modo completo. L'adegenza per questo tipo di intervento è di due tre giorni circa, la convalescenza a casa nell'ordine delle due settimane circa, la ripresa delle normali attività comunque avviene rapidamente, l'attività lavorativa viene recuperata nel giro di due tre settimane circa e dicevo l'attività sessuale riprende poi dopo sei settimane circa. Esiste ancora una categoria di interventi che noi utilizziamo quando oltre ad un'impotenza concomita un eccessivo accorciamento del pene. Il nostro gruppo ha codificato e pubblicato sulla letteratura internazionale un tipo di intervento che noi abbiamo ribattezzato a slitta per il fatto che con delle incisioni particolari lungo la superficie del pene otteniamo due segmenti che slittano l'uno sull'altro in modo da ottenere un reale allungamento della porzione libera del pene. Questo è un intervento decisamente più invasivo rispetto all'altro che descrivevo, dura tre ore circa e consente di recuperare fino a quattro centimetri di lunghezza di un pene precedentemente accorciato dalla malattia di Lapa Ironi. È obbligatorio inserire una protesi del pene all'interno dei corpi cavernosi proprio perché l'invasività di questa tecnica è tale da condizionarne un'eventuale impotenza successiva. Quindi in caso di accorciamento eccessivo del pene una possibilità di allungare la porzione libera è costituita appunto dall'intervento che noi abbiamo ribattezzato tecnica a slitta.